Di Covid si muore. Tutti quelli che abbiamo oggi nelle terapie intensive e quelli che muoiono sono persone non vaccinate. Noi a fine ottobre usciamo dal Calvario, lo ha detto a margine della consueta conferenza stampa il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, in diretta Facebook, riferendosi ad alta voce alle vaccinazioni che hanno subito in questi ultimi periodi dei rallentamenti. Vi prego di riprendere in massa la campagna di vaccinazione. Due mesi di impegno, due mesi, settembre e ottobre, e noi ci riprendiamo la vita. Due mesi. Non è niente di eccezionale. E, mantenendo l'uso responsabile della mascherina, noi a fine ottobre usciamo dal Covid. Ma è evidente che se non c'è senso di responsabilità, noi rischiamo di trascinarci questo Calvario. Non sappiamo per quanto tempo, perché più passa il tempo, più emergono altre varianti non conosciute. Non è possibile. Due mesi di impegno. E ci riprendiamo la vita. La priorità che abbiamo oggi è quella che riguarda l'apertura dell'anno scolastico. Anche qui abbiamo deciso, ovviamente, di riprendere la scuola in presenza. Voglio dirvi con grande franchezza, tutte le misure preventive di cui parliamo, il trasporto pubblico, manteniamo all'80% la presenza, i controlli sugli autobus, il distanziamento, rischiamo di prenderci in giro. L'unica garanzia è il vaccino. Noi stiamo ragionando in questi termini. Dobbiamo sicuramente completare la campagna di vaccinazione per le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori, diciamo da 15 anni a 18 anni. Almeno questa fascia di studenti deve completare la vaccinazione. I dati che riguardano gli studenti in campagna sono questi. Noi abbiamo nella fascia di età 12 anni, 19 anni, 500.000 giovani. Hanno aderito alla campagna di vaccinazione 282.000. Allora, se calcoliamo almeno la fascia di età per le medie superiori, dobbiamo fare altre 100.000 vaccinazioni. Non è un numero fuori della nostra portata. Abbiamo già registrato in questi giorni un nuovo interesse da parte delle ragazze e dei ragazzi. Abbiamo una presenza abbastanza importante. Dobbiamo fare di più se vogliamo mantenere le scuole aperte ed evitare di doverle chiudere. Quindi noi dobbiamo fare oggi questo sforzo. Questa è la priorità nell'ambito della vaccinazione da fare nei due mesi. Completare la vaccinazione per la popolazione studentesca.